Ciao a tutti, io sono Ellie e oggi torniamo a giocare con la simulazione guai genitoriali. Allora, nello scorso episodio non ho fatto in tempo a dire, cioè, ma è molto tranquilla questa simulazione, è tutto a posto, pensavo peggio, che i gemelli, già i gemelli, che i fratelli si sono messi a litigare. E infatti credo che hanno... Avete la dinamica difficoltosa oppure no? Oh mamma mia, guarda qua. Dov'è? Sì, difficoltosa. Quando la dinamica familiare tra due sim è difficoltosa, semplicemente non vanno d'accordo come la gran parte degli altri membri della famiglia. Quando socializzano di solito tendono a lamentarsi o ad avere interazioni perfide. E inoltre è più probabile che sviluppino sentimenti furiosi l'uno verso l'altro. Ecco, bene. Già ho scoperto che appunto i fratelli qua non vanno d'accordo. Poi praticamente questa è rimasta incinta. Dannazione maledetta. Quindi... Arriverà un lattante. Presto, molto presto. Vai al lavoro. Ecco, bravo. Vai a lavorare che è meglio che tu a casa fai solo guai. E in più ho scoperto che siamo in una zona sismica. Quindi c'è stato pure il terremoto. No, vabbè, ma è successo di tutto. In un minuto è successo letteralmente di tutto. Cioè, è un incubo. È veramente un incubo. Allora, la mamma è andata a lavorare. Quindi voi e domenica restate a casa con il padre. Che bellezza. Ecco, ecco, già si sta urlando contro. Ma è che Leonardo e Sofia siano di umore concentrato. Parla della scuola. Parliamo della scuola. Dovete fare i compiti per lunedì? Avete verifiche? Assolutamente no. Non ci credo nemmeno se lo vedo. La classica risposta. No, ma che compiti? Non abbiamo compiti. Lo dà l'impegno nella crescita sociale. Dà una lezione preziosa. Tipo non insultare tua sorella. Chiedi della sua giornata. Dov'è chiedi della scuola? Chiedi della scuola. Pure tu dimmi come sta andando a scuola. Solidale. Alcuni dei sim più vecchi hanno la capacità di rassicurare e fornire supporto emotivo ai membri della famiglia più giovani. Il sim più vecchio può diventare un valido modello da imitare raccontando le sue numerose esperienze per guidare il più giovane nel corso della vita. Di recente sembra che Pablo e Leonardo abbiano questo tipo di relazione. Meno male. Bravo papà. Chiedi della scuola pure a lei. Allora forza chiediamo della scuola. Come sta andando a scuola? Tutto bene? Eh bravo perché pure tu devi fare appunto la genitorialità. Se no non li posso comandare sti bambini. Ci ho deciso che non li posso comandare. Pablo non lo sapremmo mai. Fai fare i compiti a Sofia e Leonardo. Esattamente proprio quello che volevo fare. Se lo posso fare. Sprona. Vai a lavare i piatti prima. Ehi. T'azzardati. Come scusati? Lui mi ha insultato e io mi devo scusare. Vabbè diamo il buon esempio. Scusati. Amore mio non volevo insultarti. Come se ne spiace. Ma guarda non lo fa ancora. Niente. Il padre è vittima di bullismo dai figli. Non so perché me lo immaginavo. No devi fare i compiti. Me lo immaginavo che tipo quando c'era lui a casa. Non li sapeva gestire i bambini. Già loro fanno quello che vogliono. La maggior parte del tempo. Quando c'è il padre è ancora peggio. Non si sa far valere. Dillo che è stata brava a fare. Ecco a lavare i piatti. Sei stata bravissima amore mio. Proprio brava. Ma è vero che gli fa i compiti? Abbiamo fatto livello 3. Sprona a giocare. No non a giocare. Ma che ragazza. A fare i compiti. Ah nessun compito da fare. Veramente. Eh vai al lavoro. Bravo vai. Oh io mi diverto un attimo con loro. Eh se no che senso ha? Che cos'è qua? Iniezione di fiducia. Perfetto. Oh i genitori non ci sono. I topi ballano. Quando il gatto non c'è i topi ballano. Giusto. Ovunque ovunque. Pure qua. Combina un pasticcio. Pure in camera nostra. Ah assolutamente sì. Eh vai. Mamma mia. La madre li uccide. Me lo sento. Ma come divertente questa cosa. Dove è andato? Ah ok. Il salotto giustamente. Raggiunto il livello 3 di creatività. Perfetto. Ok dai. Direi che l'abbiamo sporcata abbastanza questa casa. Assolutamente sì. Andate pure a dormire. Voi dormivate. Non c'entrate assolutamente nulla. Tosta di ladri. È tornata la mamma. Fila. Scappa. Scappa che ti pecca. Ok è entrata. Ma è troppo stanca. È troppo stanca. Ce la faccio. Sono stanca. Ma ti vuoi fare la doccia? No basta. È tornata la madre. Non li comando più. Mi sono divertita abbastanza. Ok. È tornato pure il padre. Vieni vieni. Che tua moglie è qua stanchissima. Fai romanzia con Sofia. Eh aspetta. Di vedere che cosa c'è qui in casa. Ma che è successo qui? Dove sono i bambini? Questa si stava facendo il bagno. Si sta togliendo le macchie di pittura da dosso. Bambina. Sofia. Sprona a ripulire il pasticcio. No sta usando il gabinetto. La mano ha messo il gabinetto. No. Dannazio. No niente. Non gliene frega niente. Talmente stanca. Che non gliene frega nulla. Allora. Mo vedi di ripulire tutto questo disastro che hai fatto. Dov'è tuo fratello? Ehi. Tu svegliati. Vai a ripulire questo disastro che hai fatto. Di certo non lo pulisco io. Leonardo ha un dente smosso. Perfetto. Pure lui. Sprona. Ripulire il pasticcio. Forza. Tutti e due a ripulire il pasticcio che avete combinato. Lei ha detto no. Te lo puoi scordare. Come me lo posso scordare? Esci dalla doccia. No va a dormire. Non ripulisce. E chi ripulisce tutto sto casino? Sofia? Leonardo? Niente. I miei figli non mi ascoltano. Ascoltano. Non t'azzardare a ripulire. Lo devono fare loro. Ci dobbiamo far valere. Oh ha detto sì. Ha detto sì. Sofia? Alzati. Muoviti. Tuo fratello lo sta facendo. Quindi lo devi fare pure tu. Pareggio dei sessi. La parità dei sessi. Vieni qua. No. Io me ne vado. Sofia. Oh questa non ci ascolta. Manca a pagare. Sofia. Dove è andata? A mangiare. No no. Prima ripulisci il casino e poi mangi. Muoviti. Oh ha detto sì. Ce l'ho fatta. Che faticaccia però. Vai farti la doccia riflessiva che ne hai bisogno dopo tutto questo. Che poi un pasticcio mi hanno tolto. Uno. Cioè sono 800 qua. Allora io devo cercare di fare questa queste cose in questa puntata. Ce la faremo. O perderò tempo a stare appresso i figli. Molto più probabile la seconda. Ma seppure il padre non mi dà ascolto si mette. Ah no aspetta. Sta facendo una ricerca sui metodi genitoriali. No vabbè adoro. Ha scritto. Come farsi ascoltare dei figli. A posto? Hai trovato quello che cercavi? Oh Sofia ha perso il proprio dente smosso. Sì la fessura. Che carina. Bellissimo. Ma viene la fatina dei denti? Oppure no? Io vorrei andare a letto e se avrei fortuna risveglio troverai ad aspettare all'inventare una bella sorpresa da parte della fatina dei denti. Sì c'è la fatina dei denti. La fase è chiassosa. Questo sim sta facendo sentire la sua voce al mondo. Urla, fa rumore con gli strumenti e ascolta la musica al più alto volume possibile. Adesso i familiari si consiglia l'uso di tappi per le orecchie. Aspetta aspetta. Allora fammi mettere uno stereo. Perché io li sto assecondando i bambini? Fammi mettere uno stereo per... Se no come fa ad ascoltarla la musica? Se no gli metto niente. Quindi in un bello stereo. E il... Uno strumento musicale. Perfetto. Così può fare il chiasso. Ebbene. E la prima fase è andata. Se fin troppi dolci mangerai, i denti alla morte porterai. Eh ma i dolci sono buoni. Fatina. Certificato della fatina dei denti. Più un poster. Un regalo da parte della fatina dei denti può rendere meno sgradevole la perdita di un dente. Allora mettiamo... Oh certificato! Che bello! Adesso arriva paura del certificato di suo fratello, Leonardo. Perfetto. Perfetto. Così mettiamo... Che succede qua? Per la nausea! Ma tu vai pure sull'altalena con la nausea. Cioè ci credo che hai la nausea poi. Tu perché non sei a scuola? Perché questa bambina non è a scuola? Ah ma gli abbiamo detto che siamo incinte? No! Ah sta fingendo di stare male. Ok. Ah... Chi ha dato il permesso a questa bambina? Di restare a casa? Dimmelo. Io non lo so. E niente. Questa ha finto di essere malata ed è rimasta a casa. Meraviglioso. Allora. Tu devi... Quindi praticamente non le faremo fare niente oggi. No! Si è rotto pure il lavandino! Ripara! Non posso spendere i soldi in tutte queste cose. Intanto lui deve fare pure il livello 3 perché dobbiamo andare al lavoro con il carisma alzato. Perché se no non prendiamo la promozione. E manca veramente pochissimo per la promozione. Oh brava! Ma come sei brava bambina! Allora perfetto. Questo l'abbiamo fatto. Critica la mancanza di crescita sociale. No sono arrivate pure le bollette. Visto non posso assolutamente incoraggia a buttare via rifiuti. Bravissima. Brava. Visto che sei a casa almeno dai una mano a papino che sta facendo un casino qua. Bravissima. Bravissima. Ma sei proprio brava! È una lecchina di prima categoria. Io sono a casa e quindi do una mano perché se no dicono che... Non sono brava. È una lezione preziosa. Grande occasione di una cronista specializzata. Jennifer solleva lo sguardo per vedere il suo direttore appoggiato allo stipite della porta del suo ufficio con un sorriso scaltro sul viso. Stringe in mano un foglio e chiede. Sai cosa ti porto? Jennifer scuota il capo in segno di Diniego, incerta del perché diretto non si sbottoni. Arriva dal capo ufficio dell'Eco e del Gazzettino che chiede specificamente il tuo aiuto per scrivere una retrospettiva sullo Smart Show che sarà pubblicato anche all'estero. Che ne dici? Avere un articolo pubblicato anche all'estero sarebbe di sicuro una manna dal cielo per Jennifer. Avrebbe qualche soldo in tasca e il suo nome sarebbe preceduto da un titolo più prestigioso. È davvero pronta per la minuziosa analisi dei suoi scritti che questo lavoro comporterà? Scrivi l'articolo. Sì, scrivilo. Scrivilo. È diventata una debuttante illustra. Pesce piccolo in uno stagno grande. Non è la prima volta che Jennifer scrive dello Smart Show, ma finora l'aveva sempre fatto per qualche pubblicazione minore. Forte della propria conoscenza approfondita dell'argomento, le parole fluiscono senza interruzione dalla sua coscienza al suo monitor. Appena Jennifer clicca trionfamente sul pulsante di invio, si veste un bicchiere di avvornalino dall'ombra soffusa per celebrare il momento. Sei incinta, non puoi bere. E poi, in curiosità, aggiorna l'articolo per vedere se qualcuno ha lasciato qualche commento. Grave errore. Chi sono tutti questi nerd che mettono in discussione il punto di vista di una scrittrice sconosciuta? Se anche fosse Jennifer non lo sarà ancora per molto. Aiuto! Non è andata così bene. Perché praticamente i nerd, quindi quelli che frequentano Smart Show, non sono stati molto contenti del suo articolo, a quanto pare. Allora, Leonardo è tornato a casa dalla scuola, non serve che libri spazio. Con un progetto scolastico, perfetto. Eccolo, che si sta avvicinando al violino per fare casino. Ecco, niente. Allora, passa un po' l'aspirapolvere in giro prima di... Devi andare al lavoro? Ah no. Allora, perfetto. Stai a casa tutto il giorno. Allora, adesso ti occupi dei tuoi figli. Quella... Cosa sta combinando quella? Jennifer è tornata e... Perdere il controllo. Adesso basta Jennifer non ne può più di sentirsi dire che deve fare questo o quello. O si fa come dice lei o non se ne parla neanche. Rispetto alla mia autorità, il solo fatto che una platea internazionale non avesse familiarità con il lavoro di Jennifer non significa che questo articolo non fosse documentato in modo professionale e basato su fonti attendibili. Per quanto Jennifer voglia liberarsi dai detrattori, non può fare a meno di sentirsi infastidita dagli attacchi personali rivolti al suo lavoro. Bomba emotiva! Sto andando sempre peggio qui! Non so più chi... Se devo controllare i genitori o se devo controllare i figli. Ah, le bollette. Io sto con il padre, che forse è l'unico sano di mente. Che deve sopportare tutti quanti. Poi lei è pure incinta, quindi... Cioè, chiedi di sentire il neonato. Quindi praticamente c'ha gli ormoni a mille. Si arrabbia per ogni cosa. Tieni la mano. Bacio familiare. Complimentati per l'aspetto. Dile che è bellissima. Che se no qua ci uccide. Flirta. Oh, perfetto. L'hai diventato flirtante. Bambini! Muovetevi a fare i compiti. Sprova a ripulire il pasticcio. Visto che tu non sei andata a scuola, non hai compiti da fare. Tu invece fili a fare i compiti. Al posto di stare lì. Ma io adesso cosa devo fare per togliergli la fase? Ah, gli chiediamo della fase. Chiedi della fase. Così capisco come fargliela passare. Tu perché non sei a fare quello che io ti ho detto? No, ho sbagliato. Volevo dirlo a lei. Condividi la grande notizia. Invita a sentire nonato. Il mondo ha bisogno di sentire la mia voce. Puoi spronarmi a rimanere in silenzio e punirmi quando faccio chiasso. Sta più però che il fuoco che arde dentro di me non si spegnerà mai. Va bene, va bene. Chissà se saranno contenti del nuovo fratellino o sorellino. Carini. Testimone di bullismo. A scuola c'erano dei bambini. Fatti avanti e difendi il tuo amico. Ti dirò sempre questa cosa. Qualcuno mi ascolta. Non mi ascolta nessuno qui. Bravo, lui sta facendo i compiti. Tu perché non stai ripulendo il pasticcio? Ah, bene, bene. Risoluto. Dì di non urlare parole proibite. Tu non fare lecchine. Vedi di fare i compiti. Ecco. Sofia, non si dicono le parolacce in casa. È un amante della famiglia. Meno male. Credisce il ballo. Ok. Sprona a fare i compiti. Muovite. Aiuto! Pure lui! Già posso fare qua. Ah, ah, ah. Incoraggio a fare i compiti, ma non ti aggiardare mai più a dire... L'ha detto, l'ho visto. Non mi ascoltano questi bambini. Aiuto a fare i compiti. Perché non vai a pulire? Sofia! Niente, già posso fare. Trissezza condivisa. Vedere come si è maturato da Sofia soffre. Lara, tristo un po'. Niente, nostra moglie non ci aiuta. Perché dice, senti, io sono incinta. Non mi rompere le scatole. C'ho già i miei problemi. Sì, ha di vedere tutto da sola. Non ce la fa. Non ce la farà. Senti, costringi a fare i compiti. Perché Sofia, ma mi hai rotto le scatole. E quella quarta volta che te lo dico di andare a fare i compiti. O li fai, o li fai. Le cose sono due. E non mi hai avanzato i cereali. Che io lo pago il cibo. Oh. Allora. Mamma mia, che faticaccia. Serviamo pure la cena. Facciamo dei maccheroni al formaggio. Perché mia moglie qua non cucina nemmeno. Mi tocca farlo a me. Ma sono un amante della famiglia. Io amo la mia famiglia. Io amo la mia famiglia. Ripetitelo come un mantra. Io amo la mia famiglia. Io amo la mia famiglia. Io vivo per la mia famiglia. Poverino. Alla fine di questa storia mi farà più pena lui che tutti gli altri. Per me lui è l'unica vittima di questa situazione. Allora. Fai che Leonardo e Sofia siano di umore concentrato. Quando sarò grande? Vuoi fare il ninja? Inizi ad esercitarti a nasconderti. Vai. È bravo. Vai a nasconderti nel letto. Vai. Tanti compiti li hai fatti. Vero? Spero di sì. Ok. Abbiamo preparato da mangiare. Guarda te lo metto io nel frigo. Ti do una mano. Ora Jennifer può mettersi in congedo parentale. Oh mamma mia fra poco nasce. Fra poco nasce. Lo faccio diventare subito infante. Perché voglio i problemi a mille. Allora i bambini devono riuscire ad arrivare a 8. Adesso sono molto molto indietro. A parte che lui ha un progetto scolastico. Allora spegni un po'. Eh senti un po' come è sta tua moglie. Vabbè adesso sta mangiando. Hai visto? Ho preparato qualcosa da mangiare. Perfetto. Sta molto meglio. Ok. No vabbè. Questo se me sta piangere così da nulla. Ma che è successo? Gli sbalzi umorali. Gli sbalzi umorali. Poi alle 2 di notte. A ballare. Aiuto. Aiuto. Sono impazziti tutti qua. Poi c'è ancora casino. Allora. Ma senti. No. Tu sei sveglia. Cosa vuoi fare con tuo marito? Chiedi a Pablo della sua giornata. Aspetta aspetta. Controlla come sta Sofia. Controlla come sta. No. Io voglio saperlo. Come sta? Complimento sincero. Controlla come sta Sofia. Cosa è questa interazione? Non è senso. Sei ancora malata? Dici a questa bambina. A ripulire il pasticcio. Perché è ancora tutta sporca a casa. Non hanno ancora pulito tutto quanto. Non ci ascolta. Non gliene frega assolutamente nulla. Ma diglielo di nuovo. Perfetto. Qua c'è ancora un altro. Qua c'è ancora un altro. Non finirò mai. No. No. Non finirò mai. No. 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 Grazie a tutti.